Intanto buon pomeriggio, siamo all'interno del cinquantesimo settembre formiginese e quindi perdonate, devo fare un po' di ringraziamenti che però faccio volentieri perché la gratitudine secondo me è sempre importante, quindi credo che sia importante cominciare anche dai ringraziamenti. Siamo al dodicesimo Festival Idea e intanto vi ringrazio di essere qua sia per i formiginesi sia per gli ospiti che vengono da fuori. Oggi abbiamo un grandissimo nome, Ezio Mauro, direttore della stampa e anche di Repubblica, noto scrittore che ci parlerà di un tema molto complesso, però a proposito di anniversari sono cent'anni dalla scissione quindi di Livorno e quindi sarà un tema molto interessante anche dal punto di vista storico perché come diciamo sempre noi ma anche come dice il nostro amico Paolo Mieli, la storia siamo noi e approfondire la storia delle volte vuol dire mettere le mani in quello che ci sta succedendo anche e capire meglio quello che ci sta succedendo oggi. Quindi prima di lasciare veramente, di presentarvi il nostro ospite appunto dicevo vorrei fare qualche ringraziamento a Coop per il finanziamento e per la sponsorizzazione ma anche direi a tutti quelli che hanno lavorato. Ieri l'assessore Agati ne ha ringraziato qualcuno, oggi ringraziamo Santimone, l'ufficio cultura grazie per questo festival che è sempre ad un livello bello e dalla nostra comunità appunto la possibilità di riflettere su dei temi di attualità e poi volevo ringraziare anche i ragazzi di Mediagroup, voi magari li vedete così che però appunto cercano di in qualche modo di tenerci in sicurezza e di darci questa possibilità di tornare in presenza. Ieri avete visto Serena Dandini commossa proprio perché si torna in presenza la presenza non è scontata, ce la dobbiamo meritare almeno finché continua a rimanere questa situazione ci dobbiamo lavorare tutti insieme e quindi credo che sia importante appunto e volevo fare un ringraziamento ai ragazzi di Mediagroup per questo lavoro che fanno quotidianamente e per questo lavoro che fanno per permetterci di fare questo evento. Finito con i ringraziamenti però io vorrei chiamare qua sul palco Ezio Mauro e siamo veramente onorati di averlo con noi. Grazie mille. Grazie a voi. Superforma e quindi si vede che girare l'Italia, presentare il libro tiene in forma e soprattutto tiene in forma il fatto di studiare un pochino la nostra storia e grazie per questa occasione. Una cosa importante, io ringrazio il mio mestiere che mi dà la possibilità di continuare a studiare e di imparare quello che si pensa normalmente di sapere ma quando poi lo studi capisci che c'è dentro un potenziale che vale la pena provare a tirar fuori. Grazie mille, grazie, ve lo lascio. Ezio Mauro, grazie. Grazie. No, parlo con questo. Se permettete mi tolgo la giacca perché fa caldo. Grazie mille, grazie mille. Ecco, si sente, sì, benissimo. Intanto vi ringrazio di questo invito in questo posto meraviglioso che non conoscevo e dove voglio ritornare senza un'occasione lavorativa per conoscerlo meglio. Dicevo al sindaco prima, mentre abbiamo bevuto un bicchier d'acqua, che dovete avere una bella resistenza col caldo che fa di sottoporvi a un'ora di comunismo, di storia del comunismo, anche se in realtà si intreccia con la storia del nostro paese, con le vicende più significative e più importanti del nostro paese. E poi è storia del comunismo e storia del socialismo. È storia di tutti e due. Come mai questi due elementi così importanti non riescono a stare insieme? Se la storia è comune, se la vicenda di cui parliamo, la scissione di Livorno del 21, la nascita del Partito Comunista, la rottura del Partito Socialista, il dibattito di altissimo livello, sembra un dibattito con alcuni spunti che potrebbero valere per l'oggi. Ad esempio il discorso di Bordiga, il futuro segretario del Partito Comunista. E come mai tutto questo è condannato a dividersi? Il libro che è nato da questo lavoro l'abbiamo chiamato La dannazione, perché naturalmente questa spinta a dividersi, questa incapacità di stare insieme, di tenere insieme le diverse opzioni, le diverse idee, l'ipotesi comunista, l'ipotesi riformista, che si confrontino e si combattano sul piano delle idee, ma che rimangano insieme non mutilando la forza di un'espressione politica che doveva contendere il Paese al fascismo e che non si accorta mentre era chiusa litigare dentro quel magnifico teatro, quel teatro Goldoni di Livorno, che lo squadrismo fascista stava già bussando alla porta chiusa di quel teatro e stava già insanguinando l'Italia perché, se contiamo gli attentati, le azioni delle squadre fasciste, in due mesi del 21 ci ci sono più di cento morti e di quattrocento feriti per le azioni dei fascisti e la parola fascismo non è pronunciata nemmeno una volta nel verbale dei quattro giorni del congresso di Livorno. Un segno di ritardo, un segno di incomprensione, un segno di una forza politica concentrata soltanto su se stessa, di non comprensione del fenomeno storico che stava per cambiare l'immagine dell'Italia. Anche le persone più lungimiranti, anche turati, quando gli militanti gli iscrivono dall'Italia e gli dicono che il fascismo ha costretto degli assessori e dei sindaci a dimettersi perché arrivano le squadracce la notte in casa, minacciano le moglie e i bambini, fanno firmare al sindaco e gli assessori la lettera di dimissione, che cosa dobbiamo fare? E Turati risponde in un modo esemplare dal punto di vista teorico, ma in un modo disarmato dal punto di vista pratico. Dice ricordatevi che quello che contraddistingue noi socialisti è il rifiuto della violenza e quindi ricordatevi di questo e fatene un vostro comandamento. Sembra quasi una risposta evangelica quella di Turati. In realtà c'è dietro una lettura politica che è una lettura politica sbagliata in questo caso, mentre naturalmente come sappiamo ha avuto ragione in moltissime altre cose che ha detto anche al congresso di Livorno. Turati dice il fascismo è un fenomeno passeggero, è un prodotto della guerra, è un cascame dello spirito bellico, è un resto della guerra. Appena ci libereremo, spurgheremo questa eredità della guerra, queste code che i periodi bellici si trascinano dietro, questo fenomeno scomparirà così velocemente come è arrivato. Purtroppo le cose non sono andate così e il paese ha pagato pesantemente per più di vent'anni come sappiamo benissimo e come sapete da queste parti d'Italia. Quindi proviamo a analizzare che cos'è successo tenendo presente che non si tratta soltanto di un episodio di cronaca, si tratta di un momento capitale della storia del paese, perché la vicenda, la divisione, la difficoltà delle forze di sinistra contribuisce a lasciare la strada libera all'avanzata del fascismo, all'avvento del fascismo guidato da quell'uomo che come sappiamo aveva militato nel partito socialista fin quando viene espulso nel 1914 che è Benito Mussolini. Si arriva a questo appuntamento per gradi, perché come nasce la scintilla del socialismo nel nostro paese? È generata dal lavoro, non è la teoria politica che diventa ideologia e genera l'organizzazione politica, è il lavoro che mette tutto in movimento, il lavoro che nasce dalle condizioni materiali di vita della gente. Nell'Ottocento, gli ultimi decenni dell'Ottocento, ci sono delle proteste per la fame, per la mancanza di pane. Ricordano molto le proteste che hanno innescato la rivoluzione, non quella di ottobre ma quella di febbraio del 1917 a Pietrogrado. Il 23 febbraio del 1917, che nel calendario giuliano corrisponde nel nostro calendario all'8 marzo, la festa delle donne, le donne della fabbrica Krasnayanit, filo rosso di Pietrogrado, si sono rese conto, mentre hanno cercato di fare la spesa come ogni mattina prima di arrivare in fabbrica, che non c'era pane nei negozi, nella pausa sono di nuovo uscite per andare a cercare qualcosa da mangiare e anche per cercare il pane per le famiglie da riportare a casa e non c'era nulla. Sono arrivate in fabbrica, hanno chiamato gli uomini, qui dicevamo prima il ruolo delle donne, diciamo con l'assessore, il ruolo delle donne in questa città importante che occupano molte cariche pubbliche e lì sono le donne che sono andate a svegliare gli uomini spinte dalla materialità di questa condizione, che non c'era il pane per mangiare, avevano lavorato tutto il mattino senza una fetta di pane, senza poter mangiare nulla. Hanno detto dobbiamo fare qualcosa, hanno cominciato a camminare nella città, la polizia ha sbarrato i ponti sulla neva, loro semplicemente sono scesi sul greto della neva, era ghiacciata, hanno attraversato sul ghiaccio e non sapevano di camminare sulla strada della rivoluzione, non sapevano che quello che stavano facendo sarebbe stata la rivoluzione e non si sarebbe ritornati indietro. Qualcosa di simile, qualche segno simile c'è anche in Italia perché Pietro Nenni a sette anni è nell'orfanotrofio di Faenza e va a scuola come tutte le mattine con la sua divisa nera con i filamenti rossi e arriva a scuola, il bidello lo rimanda a casa, la casa poi è l'orfanotrofio, dicendogli c'è lo sciopero, è tutto chiuso. Nenni torna nell'orfanotrofio ma vede improvvisamente un fiume di persone che corre dalla piazza centrale di Faenza per ritornare a casa, sbarrarsi in casa e guardare dalle finestre cosa sta succedendo. Allora con la curiosità di un bambino corre in senso opposto a quello della folla e arriva alla piazza, arriva alla piazza e vede lo squadrone delle guardie regge schierato sui cavalli, cavalli nervosi perché capiscono che sta per succedere qualcosa, lo raccorda Nenni nei suoi tacquini e vede questa folla di donne di nuovo che rubano il pane e la farina dai forni. Lui dice sembravano dei mendicanti impazziti, le donne si stringevano al petto come se portassero dei neonati il pane e la farina e gli uomini guardando le guardie raccoglievano quasi distinto, quasi senza pensarci, le pietre sul selciato per lo scontro che ci sarebbe stato. Quando ci sono i tre squili di tromba, che Nenni non sa che cosa vuol dire, non sa che sono segnali della carica. Partono i cavalli e a quel punto Nenni scappa velocemente perché capisce che c'è lo scontro e si porta via la prima immagine della lotta di classe della sua vita a sette anni, una lotta di classe che non sapeva ancora di essere tale perché nessuno aveva battezzato la condizione operaia come una classe con delle aspettative, con dei diritti. C'è l'episodio di Baba Beccaris, dove secondo la versione ufficiale ci sono 800 molti, secondo altri racconti ce ne sono 300, quando il generale fa bombardare la gente che protesta dopo lo sciopero Lapirelli per la mancanza di pane di nuovo, lo sciopero che innesca il viaggio di ritorno in Italia dal New Jersey di Gaetano Bresci che nel 1900 aprirà il secolo sparando al re d'Italia nell'attentato di Brescia. Questo era il contesto. C'è una parola che comincia a farsi strada, che è una parola che fotografa qualcosa che non è ancora politica ma nello stesso tempo non è più soltanto mestiere, siamo in una zona intermedia e la parola è socialismo. Dicono gli storici che sia stato un italiano il primo a pronunciare questa parola. È una parola larga che tiene insieme queste condizioni di vita delle persone che lavorano e crea la coscienza di una condizione comune, di sentirsi accomunati, sentirsi investiti della stessa mancanza di diritti, dello stesso urto delle malattie, la pellagra con tutte le vittime che faceva in quegli anni, della mancanza di considerazione sociale, della mancanza di ogni elemento che oggi chiameremo di welfare, pensioni, previdenza, mutualità. E allora nascono per prime spontaneamente gemmate proprio dal lavoro, generate dal lavoro senza un calcolo ideologico le società di mutuo soccorso. Sono negli anni fino al 70 dell'800, sono 25-30 in tutta Italia, poi si moltiplicano di 4 o 5 volte, diventano tantissime, arrivano ad avere 700 mila iscritti nel decennio tra il 70 e l'80. Sono delle assistenze mutualistiche diremo oggi, sono il primo embrione di welfare, aiutano le persone che hanno perso il lavoro a ricollocarsi, fanno da ufficio di collocamento, fanno da assistenza per chi è in malattia. È il concetto della solidarietà che si fa strada dove esisteva soltanto, quando andava bene, la carità. È il concetto di previdenza che si apre un cammino dentro quello che prima era soltanto beneficenza. Ma la beneficenza non è un diritto. La beneficenza dipende dalla benevolenza di chi la fa, ma non è un diritto. E quindi si fa strada in piccola misura la coscienza di avere un diritto, di avere un diritto di partecipare alla storia del paese, di avere diritto di dire la propria. E non è necessario aver studiato, si può essere anche analfabeti. Sono le armi del lavoro che consentono di riflettere sulle condizioni in cui si opera nella società, sul ruolo che c'è nella società, sui diritti negati nella società, sulle disuguaglianze da quelli che venivano chiamati i signori. Quindi il lavoro come motore di tutto questo, il lavoro che riconfigura il sociale. E a un certo punto si rende conto di aver bisogno di un'espressione politica, che ha bisogno di trovare una rappresentanza, ha bisogno di trovare un'espressione. Il socialismo finora, fino a questo punto, era rimasto in una dimensione astratta, era una cornice, era un orizzonte, era dentro le parole delle canzoni, delle canzoni operaie, delle canzoni contadine. L'operaio industriale era soltanto nel 1880-1885, il 25% della forza lavoro del paese, l'operaio delle fabbriche, come diremo oggi, l'operaio manuale, era soltanto il 25%. Però c'era dietro questa ricerca di un orizzonte di emancipazione. C'erano delle figure gigantesche, la figura di Bakunin che aveva preparato la rivolta di Bologna e avevano portato la dinamite in Italia sotto la gonna di Olimpia, la moglie dell'anarchico Caffiero, poi sono stati arrestati tutti. Bakunin è riuscito a scappare, travestito da prete, con degli occhiali verdi, con una cesta di uova, col bastone per sembrare più vecchio di quello che era, per camuffarsi. Ma gli agitatori si chiamavano così nell'Ottocento, gli agitatori, le persone che andavano ad attaccare manifesti scritti a mano con la parola socialismo nei muri delle città che scioglievano il mantello nelle cascine, nelle aie, raccontando ai contadini la loro verità, parlando della comune di Parigi, parlando dello scontro finale al cimitero, parlando di Graco-Babeuf, andando a cercare tutti gli antecedenti della storia socialista, spiegando che si poteva organizzare qualcosa anche da noi, anche in queste condizioni, anche se erano disuniti, non avevano un centro di organizzazione. Inventavano le parole della lotta, potremmo dire, o forse semplicemente dell'autocoscienza, prima ancora della lotta, sulla musica delle aree più celebri. C'è l'inno di maggio fatto sulla musica del Nabuco, vieni omaggio, ti aspettano i cuori, ti salutano le libere genti, dolce Pasqua dei lavoratori, vieni e splendida la gloria del sole, o l'inno dei pezzenti. Noi siamo i poveri, siamo i pezzenti. gente senza diritti. L'autocoscienza della condizione porta quasi a rivendicarla, a metterla in musica, a renderla romantica nelle condizioni difficili in cui era la loro vita. E a un certo punto si sente il bisogno, dicevamo, di questa espressione politica per contare, per avere qualcuno che rappresenti questo mondo disperso, sparso. E nasce a Milano nel 1882, dai circoli operai, il POI, Partito Operaio Italiano, che nello statuto dice, possono iscriversi a questo partito soltanto dei lavoratori manuali. Non volevano che fosse contaminata la missione del partito, dovesse una rappresentanza del proletariato in quanto tale. E dice di se stesso questo partito, noi siamo un partito con la blusa testuale, cioè siamo un partito con la tuta, siamo un partito che ha addirittura i vestiti del lavoro. Poi, dieci anni dopo, nel 1892, questo partito sente il bisogno di chiamare a raccolta tutti i lavoratori italiani, di gettare il cuore tra l'ostacolo, di pensare in grande, di fare qualcosa di più generale. E convoca a Genova, durante le manifestazioni per l'anniversario di Cristoforo Colombo della scoperta dell'America, convoca a Genova un grande congresso nazionale dei lavoratori, approfittando degli sconti della ferrovia per le manifestazioni di Cristoforo Colombo. Soltanto che a Genova va in onda non la fondazione del partito socialista, ma la prima scissione. Perché mentre i socialisti cominciano i lavori del congresso, gli anarchici cercano di boicottare quei lavori perché non vogliono che nasca in quel momento un nuovo partito. E soprattutto Pietro Gori, l'anarchico famoso che ha scritto Lino dei Pezzenti, appunto, ma ha scritto Addio Lugano Bella che conosciamo tutti. E Prampolini, il socialista evangelico di queste parti d'Italia, e Turati dicono a un certo punto non possiamo più stare insieme. Vanno al microfono e dicono non possiamo più stare insieme. Siamo due partiti in uno. Turati dice voi per noi siete reazionari perché ci impedite di compiere la nostra rivoluzione. E noi per voi siamo reazionari. Quindi vi dico dividiamoci e rimaniamo in buoni rapporti tra di noi. Ognuno scelga la sua strada. Gori dice dovunque voi andrete noi vi seguiremo perché non potete impedirci di fare la nostra propaganda anarchica presso di voi. E Prampolini dice no, vi chiediamo di lasciarci liberi. Noi lasciamo liberi voi. Da questo momento non siamo più insieme. Il congresso non comincia, ma la sera da una trattoria dove si è riunito lo Stato Maggiore viene convocato per il giorno successivo nella sala dei carabinieri d'Italia, che sono i fucilieri garibaldini, viene convocato il primo congresso del partito dei lavoratori italiano che qualche anno dopo nel 1915 prenderà il nome di partito socialista italiano. Prima il partito socialista dei lavoratori e poi definitivamente di partito socialista italiano. Nasce con l'orizzonte delle riforme, non con l'orizzonte rivoluzionario. Per fare le riforme migliorare il mondo del lavoro, migliorare il mondo della povera gente e cambiare le cose attraverso le riforme. E siamo al 1892. Nel 1912 c'è una seconda scissione. C'è un attentato al re Vittorio Emanuele III al Panteo, mentre in carrozza con la moglie sta andando a una funzione religiosa in memoria del padre e un anarchico gli spara vicino al Panteo, non riesce a colpirlo, colpisce l'elmo di un corazziere, lo ferisce di striscio il corazziere. Il re è sano e salvo e cominciano le visite di ringraziamento di esponenti politici, deputati e senatori che vanno al Quirinale per complimentarsi con il re per lo scampato pericolo. E incredibilmente per il costume politico socialista dell'epoca quattro socialisti vanno al Quirinale. Sono Bisolati, Podrecca, Cabrini e Bonomi. Mussolini alla riunione del partito fa un intervento molto appassionato e dice dobbiamo cacciarli dal partito, chiedo l'espulsione perché questo atto contravviene con tutto il decalogo dei socialisti, prima di tutto perché l'attentato è un infortunio sul lavoro compatibile col mestiere di re, come per un muratore, dice testualmente, cadere da un'impalcatura. E quindi non è un fatto eccezionale. Secondo perché stiamo onorando il mestiere più inutile del mondo, il mestiere di re. E quindi chiedo di segnalare l'errore che hanno fatto questi quattro compagni e di cacciarli dal partito. È la prima scissione o la seconda se vogliamo e siamo appena nel 1912 per un partito nato nel 1892. Allora la prima riflessione che dobbiamo fare è che probabilmente questa dannazione, questa spinta a dividersi, questa difficoltà a stare insieme, questa difficoltà a procedere anche con le persone che magari hanno tenuto una condotta sbagliata, non nascondendo gli errori ma affermandoli e tuttavia procedendo insieme perché l'idea, la superficie che può lottare per affermare quegli ideali, è più importante delle convinzioni di parte, a prescindere dal fatto che quella parte abbia ragione o abbia torto. Quindi nel codice genetico c'è questa spinta alla scissione. Intanto nel 1914-15 c'è la prima guerra mondiale, la parola d'ordine dei socialisti che sono guidati da un vecchio militante che ha fatto parte del partito operaio che si chiama Costantino Lazzari, è né aderire né sabotare, è una posizione ambigua, è una posizione che non soddisfa le passioni degli interventisti e le passioni invece di chi storicamente come socialista è contro la guerra e Mussolini infatti diventando sempre più interventista fonda il popolo d'Italia e assume delle posizioni nettamente contrarie alla linea del partito e viene cacciato nel 1914. Quando finisce la guerra, una guerra che ha dei risultati terribili con 8 milioni di morti, 15 milioni di invalidi, 7 milioni di feriti, soprattutto con il disorientamento e lo sbandamento delle persone che tornano e non trovano un riconoscimento sociale dopo aver fatto la guerra, dopo essere stati al fronte e non hanno un ruolo, sono sbandati. Uno dei compagni di Gramsci dell'ordine nuovo, Tasca, li chiamerà i fuori classe, non nel senso che sono dei campioni, nel senso che sono fuori, sono dei tagliati fuori, sono fuori da ogni ruolo dentro la società e queste persone che verranno raccolte, verranno riconosciute in qualche modo, battezzate dal fascismo e prima ancora dallo squadrismo, vengono irrise dai socialisti perché sono state, sono finite dentro il vortice della guerra. Nello stesso tempo il PSI che aveva una posizione ambigua ma non era favorevole alla guerra ha un successo elettorale molto forte nel 1919 perché ottiene 156 eletti tra i parlamentari, quindi un partito pesante, un partito che ha 200 mila iscritti, controlla un terzo dei comuni del regno e ha appunto 156 parlamentari in Parlamento, quindi un momento molto forte, non un momento di debolezza. Alle elezioni del 1919, quelle che appunto, quelle nelle quali otterrà questo risultato notevole, il partito si presenta col suo nome, PSI, finalmente compiuto, e si presenta con un simbolo nuovo, c'è una spiga di grano che incornicia un sole nascente e c'è una falce e un martello che per la prima volta entrano nell'iconografia della sinistra italiana che abiteranno a lungo fino a quando Craxi toglierà la falce e il martello dal simbolo del PSI inserendo il garofano sul libro aperto dicendo questo non è il simbolo antico del partito socialista ma il simbolo della repubblica russa e sovietica e effettivamente il simbolo della falce e martello simbolo sovietico era stato scelto da Lenin scartando molte altre immagini tra cui quella di un mondo che si liberava dalle catene e vedremo che questa immagine ritornerà. Quindi il PSI assume il simbolo della repubblica sovietica e sceglie la dittatura del proletariato per la prima volta abdicando al programma originario che era stato votato per acclamazione a Genova all'unanimità di tutto il partito che non parlava di rivoluzione ma parlava di riforme. Nel 1915 si sceglie invece la strada di appoggiare la strategia sovietica. Cos'era successo? Era successo qualcosa che ha cambiato la storia, ha cambiato il mondo la rivoluzione russa, l'ottobre, l'avvento di Lenin. Diciamo che nel partito socialista negli ultimi dieci anni tutti di qualunque tendenza fossero, anche i riformisti di Turati, la parte moderata del partito si consideravano rivoluzionari, definivano se stessi rivoluzionari. Ma la rivoluzione era quasi un espediente retorico, era un orizzonte indefinito nello spazio e nel tempo. Non era un programma operativo, cogente, qualcosa per cui si lavorava. Era un punto di arrivo, un giorno ci sarà la rivoluzione. Per questo noi siamo dei rivoluzionari. Ma non stiamo facendo la rivoluzione e non la stiamo nemmeno preparando. L'avvento dell'ottobre russo cambia completamente la prospettiva, la cambia per il mondo, perché il mondo scopre che la rivoluzione è possibile ed è possibile, come dice Gramsci, non secondo i dettami di Marx, dove la borghesia e il capitalismo devono svolgere la loro fase, entrare in crisi e a quel punto subentra la rivoluzione. No, avvengono in un mondo dove la borghesia non c'è, c'è l'impero, c'è una dinastia autocratica che deve il potere, il comando e la trasmissione del potere e del comando a se stessa, che si mette la corona imperiale in testa da sola e che regna sulle Russia da tre secoli con Nicola II. Ma non c'è una borghesia, non c'è il capitalismo e tuttavia la rivoluzione si compie, si compie proprio in quel paese, in quel paese che ha avuto la Domenica di Sangue nel 1905, quando le guardie del Palazzo Imperiale massacrano le persone che guidate da un Pope, dal Pope che li porta davanti al Palazzo d'Inverno, si rivolgono allo Zar non per una protesta ma per una supplica e tuttavia, lo Zar è fuori Pietro Grado in quel momento, non è lui che ha dato l'ordine, tuttavia il sangue ricadrà su di lui e sulla sua dinastia perché la Domenica di Sangue lascia un numero enorme di morti nella neve di Pietro Grado. Tutto questo dà anima, fuoco alla rivoluzione e soprattutto cambia la prospettiva anche per la sinistra in Occidente. Allora la rivoluzione è qualcosa di possibile, allora la rivoluzione è qualcosa di concreto, allora l'orizzonte improvvisamente si accorcia, ma allora la possiamo fare anche noi, allora non possiamo più permetterci dal punto di vista tattico di parlarne in modo indefinito e sommario. A questo punto siamo obbligati quando parliamo di rivoluzione ad avere qualche elemento concreto, a metterla per terra, a far camminare quella parola, a chiederci cosa vogliamo farne e parlando di quella parola parliamo di noi, noi di sinistra. Che cosa siamo? Siamo davvero rivoluzionari? Come la prepariamo la rivoluzione? C'è una frase terribile per i destini della sinistra che io ho messo come esergo all'inizio del libro di Turati nel 1920 in una lettera alla sua compagna Anna Kulishoff. Quanto sarebbe prezioso per noi questo momento storico e quale delitto politico ci sia nel vivere così alla deriva, fra una rivoluzione che non si fa e una riforma che non si tenta. Gli uni cercando gli alibi negli altri per giustificare il proprio bullismo e viceversa. Un delitto politico. Vivere tra una rivoluzione che non si fa e una riforma che non si tenta. Poi ci chiediamo come mai il fascismo ha trovato la strada per insediarsi e per andare avanti. Quindi la rivoluzione di cui si sa poco, la notizia con il blocco della Russia, la distanza, il sistema di comunicazione e soprattutto la lontananza arriva in Italia con una settimana di ritardo. La notizia della rivoluzione di febbraio. Arriva in Italia con una settimana di ritardo e il primo a parlarne è Turati, un riformista, non un rivoluzionario, prende la parola alla camera e dice per primo, noi non possiamo nascondere la nostra esultanza per l'inizio di un processo di liberazione dell'intero mondo. Quindi la rivoluzione è vista come l'inizio di un processo che libererà le popolazioni in condizioni subordinate in tutto il mondo. Qualcosa di universale. Turati riceve i complimenti di Anna Kulishov che è russa e che vive con lui a Milano. Nei giorni della rivoluzione lei è a Milano, lui è a Roma in Parlamento. Si scambiano 36 lettere in questo periodo. Bisogna leggerle perché lei è travolta da quello che succede a Pietrogrado e poi a Mosca. Gli scrive la prima sera dopo la notizia ho passato 24 ore in uno stato continuo di orgasmo, come ubriaca, continuamente visitata da amici e compagni che volevano complimentarsi con me come se io centrassi qualcosa e volevano soprattutto avere informazioni, pensando che io avessi dei contatti dalla Russia. E finisce questa prima lettera dicendo fortunatamente vedremo ancora delle cose belle. E Turati risponde con prudenza, dice sono felice che tu sia in questo stato di contentezza per quanto sta succedendo. Voglio al cielo che tu abbia ragione. E poi via via nelle lettere Turati comincia a mettere dei elementi di distinguo. Era a favore della rivoluzione di febbraio ma era una rivoluzione guidata da un socialista, Kerensky, non da Bolshevico. Era una rivoluzione che ha portato un governo guidato da un principe, non da un bolshevico, il principe il Vov. E via via, quando i bolshevichi prendono il sopravvento fino ad arrivare poi all'ottobre di Lenin, Turati prende le distanze. E devo dire anche la Kulishov col tempo prende le distanze. E si chiede addirittura come mai Lavanti nelle corrispondenze da Mosca sembri propendere per la posizione di Lenin. Ma la posizione di Lenin è minoritaria a Pietrogrado. Sono i socialisti che sono i padroni dell'idea di sinistra. Perché Lavanti sostiene e poi finisce facendo una profezia terribile sul destino della rivoluzione e della Russia quando nell'ottobre i bolshevichi prendono il sopravvento. Lenin nel 1919 chiama i socialisti italiani al secondo congresso, che di fatto è il primo, perché nel primo congresso mancavano i rappresentanti di molti paesi, tra cui l'Italia, la Spagna, la Francia, al secondo congresso della terza internazionale. Fa rinascere l'internazionale. La prima internazionale era morta, la seconda internazionale era stata di fatto spezzata dalla guerra che aveva diviso i partiti socialisti secondo le scelte di guerra dei loro paesi e dei loro governi. Nell'anniversario della rivoluzione francese, durante l'exposition di Parigi davanti alla torre Eiffel, c'era una mostra delle macchine del progresso prodotte dalla tecnologia dell'epoca. E i socialisti hanno convocato proprio in quella data, proprio in quel luogo, il loro congresso con 400 delegati di 19 paesi. E hanno detto, il capitalismo qui, i padroni, vi mostrano il frutto del nostro lavoro, che andrà a vantaggio dei ricchi, dei signori. Noi semplicemente ci riuniamo qui oggi, proponiamo di rilanciare l'internazionale socialista, perché vogliamo che i frutti del lavoro vadano a beneficio di tutti, anche di chi quelle macchine le ha prodotte e realizzate. Lenin convoca la terza internazionale, quella sarà l'internazionale comunista, che prende il nome di Comintern. I socialisti partono con una delegazione gigantesca, formata dagli esponenti del partito, del gruppo parlamentare, della Lega delle Cooperative, del sindacato. C'è qualcuno che porta addirittura i bambini, che porta i figli. Bordiga porta la moglie a Hortensia, anche se non è delegato, è soltanto osservatore. Grazia Dei, il Conte Rosso, uno dei dirigenti del partito, porta il figlio. Quando c'è a sorpresa un incontro con Lenin, secondo la procedura rivoluzionaria, vengono informati soltanto la sera prima, che il giorno dopo potranno vedere Lenin, e Grazia Dei spinge suo figlio avanti nell'ufficio di Lenin, perché lo possa vedere dalla prima fila, perché è la prima volta che i socialisti incontrano il mito. Conoscevano soltanto quei nomi, ma non li avevano mai visti, non li avevano mai sentiti parlare. Dovete pensare che cos'erano le distanze, e quindi le differenze che le distanze comportavano. La separazione, due mondi diversi. E c'è quest'uomo, dai tratti mongolici del viso, piccolo, su una scrivania da ministro, diciamo così, di ferro, sono andato a vedere quell'ufficio, ancora col telefono a manovella sul tavolo, un telefono che non suonera mai per tutto l'incontro che ha con i socialisti italiani. E a un certo punto un deputato genovese dice a Lenin, ma noi non abbiamo fretta di fare la rivoluzione noi italiani, abbiamo le cooperative, controlliamo un sacco di municipi in giro per l'Italia, abbiamo il sindacato che è presente in tutte le fabbriche, che bisogno c'è di fare le cooperative? Lenin si aggrappa ai braccioli della poltrona, si spinge in avanti alzandosi e quasi gli urla in francese, ve le bruceranno le cooperative, assalteranno i vostri municipi, non potete soltanto spaventare la borghesia minacciando la rivoluzione e poi tirarvi indietro a non farla. E qualcuno si ricorderà di queste parole di Lenin quando lo squadrismo opererà poco più tardi. In questo clima tutti i dirigenti socialisti, anche quelli venerati dagli italiani perché facevano parte della mitologia della rivoluzione, Trotsky, Zinoviev, il segretario del Comintern, che va addirittura alla stazione di Pietrogrado ad accogliere i socialisti, poi dirà, mi sono sbagliato, pensavo fossero dei rivoluzionari, invece erano dei riformisti, ma gli operai di Kronstadt portano addirittura in trionfo il dirigente della CGL, della Conferenzazione Generale del Lavoro, d'Aragona, e poi scoprono che d'Aragona era contro alcune posizioni tenute dai sovietici. Diciamo che tra il mondo socialista italiano e il mondo della rivoluzione sovietica, da lontano tutto sembra facile, da vicino tutto diventa complicato. Bukharin attacca il partito, dice, siete pieni di avvocati, dovresti avere più gente che lavora davvero dentro, i calli sulle mani. Il comitato direttivo, il comitato esecutivo della terza internazionale consegna agli italiani una lettera da trasmettere all'intero corpo del partito con 21 condizioni per aderire alla terza internazionale. L'adesione non è libera, si aderisce se si rispettano le 21 condizioni fissate da Mosca. Il fatto che Mosca guidi la terza internazionale è fuori discussione. I sovietici non ci pensano neanche di spiegare, di giustificare perché. Noi siamo la terra della rivoluzione, noi fissiamo le condizioni, perché i partiti occidentali di cui abbiamo bisogno, perché se la rivoluzione rimane isolata, dice Trotsky, morirà. Quindi abbiamo bisogno del vostro contributo, ma per poter dare il vostro contributo alla terza internazionale dovete rispettare 21 condizioni. Queste condizioni sono di gettare via il nome socialista. Lenin già nell'aprile del 17 ha detto togliamoci la camicia suddicia e indossiamone una pulita. Bisogna chiamare il partito partito comunista. Bisogna votare per la dittatura del proletariato. Bisogna votare per la dittatura del proletariato e bisogna creare una struttura militare clandestina per essere pronti a passare all'azione quando sarà necessario. Si capisce bene da queste tre condizioni, soprattutto la dittatura del proletariato e la struttura militare clandestina per il colpo rivoluzionario, che per i riformisti non c'è posto nel partito e nella terza internazionale. E' la condizione che dal primo giorno del congresso che si svolge a Pietrogrado e a Mosca, prima a Pietrogrado poi a Mosca, fino all'ultimo giorno, ripeto agli italiani, cacciate i riformisti. Cacciate subito i riformisti, togliete di mezzo turati, buttateli fuori, inquinano il partito, stanno acquattati dentro il partito, pronti a boicottare la rivoluzione quando sarà il momento, ve ne accorgerete, fatelo subito, fatelo immediatamente, ditelo ai militanti del vostro partito, appena tornate in Italia, leggete la nostra lettera. Addirittura Bukharin dice vi scongiuriamo, cacciate i riformisti. Serrati, il direttore dell'Avanti, che è capo della corrente che si chiama dei socialisti unitari, dei comunisti unitari, è stato accolto come un eroe quando è arrivato a San Pietrogrado e poi si trova a ingaggiare un duello con Lenin, un duello spietato perché Lenin lo attacca in pubblico al congresso, due volte, e Serrati dice, ma Turati non è come i socialdemocratici di altri paesi, ha sempre difeso l'unità del partito, può darsi che venga un momento in cui ci dobbiamo separare da lui e dai riformisti che stanno con lui, ma lo decidiamo noi, perché noi conosciamo le condizioni del nostro partito, noi scegliamo il momento. La rivoluzione, la struttura militare, ma il partito deve essere preparato a fare tutto questo. Il partito deve avere un'educazione, oggi potremmo dire golpista, ma comunque lui dice militare. Il partito deve essere addestrato, il momento, se permettete, lo scegliamo noi. Noi riconosciamo la necessità della rivoluzione, avete ragione, la vogliamo fare, vogliamo stare con voi, ma al momento lo decidiamo noi. È una rivendicazione molto importante da parte di Serrati, che non è uno dei leader più significativi del partito, ma vincerà il congresso di Livorno, perché c'è un germe dell'autonomia. Noi vogliamo far parte del Comintern, noi vogliamo far parte dell'internazionale comunista, ma i tempi, i modi, le decisioni da prendere, spettano noi, non spettano voi. E dice, quando Lenin interviene e lo confonde con Turati, lui prende la parola e dice, non capisco perché il compagno Lenin continua a confondermi con Turati. Lenin sale al microfono, lo interrompe e dice, nessuno confonde con il compagno Turati, se non lui che esprime opinioni che coincidono con quelle di Turati. Quindi è la sconfessione di Serrati, che ha in mano la corrente maggioritaria del partito, quindi la sconfessione del nucleo principale del partito. Con queste 21 condizioni, la lettera con 19 firme, le più prestigiose della rivoluzione, da leggere all'intero partito, si apre il congresso di Livorno, si apre con una specie di spada di Damocle sulla testa. Che cosa bisogna fare? Bisogna aderire alle posizioni dell'internazionale comunista? Non si può essere rivoluzionari, essere socialisti e stare lontani dall'internazionale comunista nel momento in cui realizza la rivoluzione di cui si è parlato a Vanvera per anni e anni. Adesso che la rivoluzione c'è, noi non stiamo insieme. Ma stare insieme vuol dire accettare il diktat di Mosca. La rivoluzione vista da vicino è come una maglia di ferro che detta delle condizioni, un ultimatum al partito italiano. E il congresso si apre sapendo che c'è questo incubo. Nessuno sa cosa succederà alla fine del congresso. Chi vincerà? I comunisti hanno un'unica speranza, conquistare il consenso dell'intero partito e portarlo sulle condizioni di Mosca. Scegliere la dittatura e il proletariato, scegliere la fine dei compromessi borghesi istituzionali, scegliere la via rivoluzionaria fino in fondo, cacciare i riformisti. Il grosso del partito guidato da Serrati e i riformisti sono naturalmente contrari. Il congresso si apre con degli inviti a riflettere sul momento drammatico che il partito sta vivendo a Livorno. Il partito viene visto come un impasto di velleità impeto rivoluzionario. Ho trovato nei telegrammi nell'archivio di Stato, nell'archivio centrale di Stato, ho trovato dei documenti che non erano ancora stati trattati dagli storici, e cioè i telegrammi dei prefetti di Livorno, di Milano, di Torino, di Ancona al ministro dell'interno. Il ministro dell'interno è Giolitti, ad Interim, perché è il presidente del Consiglio. E il prefetto di Livorno scrive dicendo, prima del congresso, come mi devo comportare con questo congresso dei socialisti? E la risposta sarebbe da insegnare nelle scuole, un manuale di una democrazia perfetta. Perché la risposta dice, è un grande partito, un partito rappresentato in Parlamento, ha tutto il diritto di svolgere il suo congresso liberamente. Tenete a bada i fascisti che minacciano di fare azioni di disturbo a Livorno, addirittura pensano all'inizio di indire un loro congresso proprio in quei giorni e proprio a Livorno. Tenete a bada i fascisti, spiegate a loro e a tutti che la libertà dei socialisti di svolgere i loro lavori fa parte della libertà del paese. Una risposta perfetta. Se non fosse che ho trovato un secondo telegramma del prefetto di Livorno che informa il ministro dell'interno che è arrivato il funzionario addetto allo spionaggio dei telefoni, è arrivato a Livorno e sta con tutto il macchinario e sta prestandosi per il suo lavoro. Allora siamo andati a cercare i fonogrammi e a mezzanotte meno un quarto questo funzionario del ministero dell'interno addetto alle telecomunicazioni scrive un fonogramma riservato e cifrato al ministro dell'interno dicendogli non posso applicare le disposizioni per lo spionaggio telefonico a Livorno per la semplice ragione che tutti i tecnici che lavorano nella centrale telefonica di Livorno sono socialisti e quindi capirebbero che cosa sto facendo e nascerebbe uno scandalo nazionale. Allora propongo, se mi date l'autorizzazione in fretta, di andare al nodo telefonico di Pisa, attivare lo spionaggio telefonico lì e vi garantisco che sono in condizione di spiare tutte le telefonate che dal teatro Goldoni dove erano state predisposte per la prima volta in un congresso sei cabine telefoniche al primo piano del teatro, io controllerò tutte le telefonate degli alberghi dove sono i dirigenti socialisti del teatro in partenza e in arrivo per Roma e riferirò puntualmente a questo ministero. Quindi formalmente è considerato come un grande partito, oggi diremmo costituzionale, oggi diremmo repubblicano, nel regno e senza la costituzione, come un partito che ha tutto il diritto di svolgere il suo lavoro senza vincoli, in realtà è un partito che viene spiato e soprattutto vengono spiati i delegati che arrivano dal Comitern, un ungherese e un bulgaro. Chi è il bulgaro? Il bulgaro si chiama Cristo Kabacev, ha tradotto in bulgaro tutte le opere di Lenin, ha studiato nelle università occidentali, è amico personale di Lenin, fa parte dell'esecutivo del Comitern e viene inviato perché non ottengono il visto per venire in Italia né Trotsky, che non c'è la sicurezza che lo abbia chiesto, ma c'è la sicurezza che il visto è stato chiesto da Bukharin che voleva venire da Zinoviev, il segretario del Comitern, e il visto viene negato. E quindi i delegati italiani del congresso di Livorno, che si aspettano di vedere la rivoluzione in carne e ossa, sognano Lenin, idolatrano Trotsky, aspettano almeno Zinoviev, sperano in Bukharin, si trovano questo bulgaro di 46 anni, che non sanno chi è, non sanno chi sia, che viene chiamato con tutti gli onori al congresso, che cammina come se fosse sotto un baldacchino invisibile circondato da tutti i dignitari del partito e che prende la parola in francese con l'onorevole Misiano che traduce e molto semplicemente cala l'ultimatum di Mosca. Dice apertamente che la terza internazionale, il Comitern, l'internazionale comunista, riconoscerà di tutte le emozioni che sono in gioco al congresso, primo giorno del congresso, guardate come viene indirizzato da Mosca, tutte le emozioni che sono in gioco al congresso, una sola, lo diciamo fin dall'inizio, verrà riconosciuta dal Comitern, è quella della componente comunista. Quindi il partito comunista deve nascere ad ogni costo e il partito socialista si deve impegnare a cacciare i riformisti. C'è una reazione da parte della platea molto pesante, gli urlano, fischiano, urlano, dicono questo è un diktat, questo è un ultimatum, questo è un ordine, questa è una bolla pontificia, abemus papam, c'è un rifiuto da parte di una forte componente del congresso, naturalmente la componente comunista invece dice, applaude. Parla Terracini che ha 26 anni in quel momento, fa parte del gruppo dell'ordine nuovo gramsciano e illustra la posizione della componente comunista, dice questo partito non è adatto per fare la rivoluzione, è un partito che ha molti meriti, che noi riconosciamo il partito socialista, ma non è adatto per fare la rivoluzione. Per fare la rivoluzione ci vogliono le condizioni materiali e le condizioni spirituali. Le condizioni materiali ci sono tutte, massacrano la gente da Bava Beccaris in poi, ci sono le rivolte per il pane in tutto il paese, le condizioni materiali le patiamo e le viviamo ogni giorno. Le condizioni spirituali, oggi diremmo soggettive, non ci sono, perché manca il soggetto, manca il partito. E allora faremo nascere questo partito comunista o con voi o senza di voi. Un urlo dal fondo della platea dice, buon viaggio. Poi parla il vero capo della mozione comunista, che è Amadeo Bordiga, un oratore impressionante, con questa testa molto grande e un impeto anche nei gesti, nella postura che trascina la platea. Lui dice, a differenza di Terracini, è molto più duro col partito socialista. Questo partito viene usato dal capitalismo internazionale come un elemento equilibratore degli eccessi del capitalismo e dell'imperialismo. Siamo una pura funzione di equilibrio, un ammortizzatore. Ma siamo dentro tutte le compatibilità della democrazia borghese. Quindi non ci potrà mai essere la rivoluzione con questo quadro di riferimento. Bisogna cambiare completamente. Quando parla Terracini nel giorno dei comunisti, per due volte dalla platea parte un urlo, Gramsci, Gramsci. La gente vuole vedere Gramsci, vuole conoscerlo, lo legge sull'Ordine Nuovo, lo legge sull'Avanti, che fa parte della redazione piemontese dell'Avanti, della redazione torinese, lo legge sul settimanale Il grido del popolo che Gramsci dirige, ma non lo conosce, non c'è un'immagine di Gramsci. Lo chiamano, vogliono che si manifesti, non sanno dov'è. Ho trovato il nipote di un barbiere di Livorno che aveva 18 anni nei giorni del congresso nel 21, il barbiere. Ha chiuso bottega, era un socialista, gli hanno dato un bracciale rosso al braccio e ha lavorato come, come si può dire, tuttofare al congresso, ma soprattutto in un quaderno che il nipote ha conservato e che mi ha mostrato, ha fatto una mappa della dislocazione dei posti nel congresso. È l'unica mappa che esista. Si sapeva che sul palco del Teatro Goldoni c'era la tribuna per gli oratori e c'era il Banco della Presidenza e c'era un'enorme striscione con la scritta proletaria di tutto il mondo, unitevi, e un ritratto gigantesco di Marx sotto i cui occhi avveniva tutto. Poi si sapeva che in platea stava la componente di Serrati, maggioritaria, la corrente più forte del partito, i comunisti unitari. E si sapeva che a destra del palco, quindi a sinistra della platea, stavano i comunisti. Scusate, a sinistra del palco stavano i comunisti e a destra del palco stavano i riformisti attorno a Turati, a Matteotti, a Treves, a tutti gli esponenti della corrente. Ma non si sapeva il numero del palco. Da questa mappa abbiamo scoperto che intanto nel palco numero 26 c'era per la prima volta nella storia della politica italiana una macchina da ripresa cinematografica che ha ripreso le poche immagini che ci sono del congresso ed era da quel palco, vicino a Turati. E poi si è scoperto che Gramsci era nel palco numero 3. Quindi tre palchi dalla tribuna insieme con Bombacci, che finirà poi a Salò e prima con Mussolini, e insieme con Bordiga. E Gramsci quando la platea lo acclama non si alzerà in piedi. I due leader del comunismo italiano, a parte Bordiga, che sarà il primo segretario del partito, Togliatti e Gramsci sono praticamente assenti come protagonismo dal congresso di Livono. Turati è assente fisicamente, rimane a Torino a fare il giornale. Scrive lui gli editoriali per l'Ordine Nuovo sulla nascita del partito, sulla scissione. Gramsci non si mostra. La segretaria dell'Avanti torinese dell'Ordine Nuovo, Pia Carena, che era in realtà innamorata di Gramsci, come racconterà poi il suo compagno Leonetti, che starà con lei nella parte finale della vita, e dirà «I mi sono avvicinato a Pia Carena negli uffici dell'Ordine Nuovo, ma ho capito che il suo cuore era interamente occupato da una sola figura, quella di Antonio Gramsci. Però è qualcosa che ufficialmente non si saprà mai. E loro continuano a darsi del lei, lui la chiama signorina, e lei lo chiama Gramsci, come i comunisti sono sempre chiamati per cognome ancora fino alla fine del partito, Natta, Berlinguer, Paietta, Pecchioli. E Pia Carena dice che non ha parlato negli anni successivi, perché non c'erano i microfoni e la sua voce era flebile. In realtà non parla perché è sotto attacco. A Torino c'è stata l'occupazione delle fabbriche. Gramsci ha pensato che fosse un'occasione di avviare la rivoluzione. Gramsci ha teorizzato il ruolo dei consigli di fabbrica come primo nucleo rivoluzionario del nuovo Stato proletario e socialista. Quindi non solo come organizzazione sindacale e operaia, tanto che voleva che nei consigli di fabbrica votassero anche gli operai non iscritti al sindacato. Quindi qualcosa di molto di più di un'organizzazione sindacale. Proprio il primo embrione dell'organizzazione politica del nuovo Stato. E la vista realizzata nell'occupazione delle fabbriche nell'agosto del 1920, agosto settembre. Cosa succede? Gli operai chiedono un aumento, i sindacati, chiedono un aumento di salario. Nella prima riunione i rappresentanti degli industriali dicono ci siamo calati le braghe da quattro anni a questa parte, è il momento che ve le caliate voi. Testuale. Gli operai rispondono con lo sciopero bianco e cioè scombinando i ritmi, saltando delle procedure, mandando in stallo la produzione. Gli industriali replicano con la serrata delle fabbriche. Gli operai reagiscono con l'occupazione delle fabbriche. La bandiera rossa sale sulla Fiat. La Fiat è l'epicentro dell'occupazione che si estende in tutto il nord Italia, anche nei cantieri in Liguria, anche a Milano naturalmente. Un operaio di 31 anni, parodi, decide insieme col consiglio di fabbrica che guida l'occupazione, di continuare la produzione. Per cui l'operaio, scrive Gramsci in quei giorni, passa dalla condizione di sfruttato alla condizione di produttore. Sembra un accorciamento clamoroso dei tempi. La rivoluzione sembra portata di mano, ma non sembra soltanto Gramsci che lavora al giornale, scrive gli articoli, dà la linea, ma partecipa alle riunioni, si arrampica sui tetti per visitare i posti di guardia, controlla che non ci siano infiltrazioni quando la sera le famiglie, le moglie e i figli portano il cibo ai mariti che occupano la fabbrica, ispeziona con togliate le guardie rosse armate che hanno trovato le armi che la Fiat fabbricava e se ne sono impadroniti. Non è soltanto Gramsci che pensa che la rivoluzione sia portata di mano. Agnelli chiama Giolitti, Giolitti gli dà un appuntamento a Bardonecchia, presidente del consiglio. Agnelli va a Bardonecchia accompagnato dal direttore della stampa che in quel momento è Frassati, Frassati fa la cronaca di quell'incontro nei suoi libri e Agnelli gli dice il governo deve intervenire. E Giolitti dice va bene c'è un unico modo per intervenire, bisogna muovere l'artiglieria. E Agnelli dice sono d'accordo, dice allora a Torino c'è il settimo artiglieria, il settimo reggimento, d'ordine domani mattina di bombardare la Fiat. No, dice Agnelli. E allora dice Giolitti che vogliamo fare. E poi scrive nelle sue memorie gli industriali devono capire che per qualche lira in più non possiamo usare la forza pubblica con tutti i rischi delle conseguenze che ci possono essere in un'operazione come questa contro gli occupanti delle fabbriche. Agnelli chiama l'ingegnere Romita che sarà ministro dell'interno nel referendum Repubblica Monarchia, socialista torinese che ha lavorato con la Fiat, quindi si conoscono bene e addirittura studiano durante questo mese di occupazione delle fabbriche un meccanismo per trasformare la Fiat in cooperativa. Sembra una cosa pazzesca pensandoci oggi che Agnelli stesse discutendo un piano per trasformare l'azienda di proprietà sua in una cooperativa, ma evidentemente pensava che la cooperativa fosse meglio di un esproprio e l'esproprio pareva possibile. Quindi sono giorni in cui la rivoluzione sembrava portata di mano. Forse la rivoluzione era quella cosa lì, forse la rivoluzione italiana era quella cosa. La bandiera rossa alla Fiat, il ritratto di Lenin appeso nella stanza di Giovanni Agnelli e gli operai che organizzavano la produzione della fabbrica come se fossero i padroni, senza che la produzione si interrompesse. E invece dopo un mese lo spirito dell'occupazione defluisce, la rivolta si sgonfia, Giolitti capisce che è arrivato il momento, gioca una proposta di intermediazione, riunisce in un albergo di Torino le parti e fa una proposta di mediazione con una formula magica, quella di creare una commissione per varare una legge sul controllo sindacale delle imprese. Non si farà mai. Ma in quel momento è la chiave che apre la porta della fabbrica, consente la fine dell'occupazione, tolgono il ritratto di Lenin dalla parete dell'ufficio e si prepara un'altra stagione e un'altra iconografia drammatica per il paese, come abbiamo detto prima. Tutto questo pesa su Gramsci. Viene accusato di aver forzato, viene accusato di velitarismo, viene accusato di aver portato alla sconfitta il movimento operaio con l'occupazione delle fabbriche, non soltanto lui, lui Togliatti, Togliatti è il segretario del partito a Torino in quel momento. Viene accusati i torinesi, i torinesi come vengono chiamati. Nei giorni finali dell'occupazione, prima della proposta di mediazione di Giolitti, i vertici del partito socialista, i vertici del sindacato chiamano Togliatti a Milano, fanno una riunione, gli presentano un piano per la rivoluzione di sette giorni, con un unico armamento, un aereo che il partito ha comperato, non si sa come, non si sa dove, e che tiene in un hangar segreto. Ma Gennari, il segretario del partito, ha fatto addirittura una scansione per tappe del percorso della rivoluzione in sette giorni e dice a un certo punto a Togliatti, non potete cominciare voi, voi chi? Torinesi, andate avanti voi. E Togliatti gli dice, noi non siamo in condizioni. Noi abbiamo le armi e la struttura militare, diciamo così, le Guardie Rosse, per difendere gli stabilimenti se venissero assaltati, ma non abbiamo né armi, né struttura, né addestramento, né collegamenti per attaccare e portare la rivoluzione nelle piazze, nelle strade, nel paese. Gli unici avamposti socialisti sono uno a Vercelli e uno a Saluzzo, sono troppo distanti, a est e a ovest. Che cosa faremmo in mezzo? Non possiamo attaccare da soli. Torna indietro e dice a Gramsci che ha avuto la sensazione di essere a Bisanzio e ha avuto la sensazione che i vertici del partito e del sindacato volessero mandare i torinesi allo sbaraglio. Tutto questo pesa su Gramsci come un'ombra e quindi il partito riunito a Livorno non vede Gramsci che rimane un'ombra che i delegati non conoscono, che continueranno a leggere, ma che non conoscono. Intanto con la scissione del partito l'edizione torinese dell'Avanti verrà cancellata, verrà riportata alla regola, seguirà la linea del partito e il congresso va avanti fino all'intervento di Turati con le posizioni delineate, fino all'intervento di Turati che è un intervento appassionato. Turati è un leader gigantesco ma è anche un gigione formidabile per cui sale alla tribuna con la sua barba bianca, le barbe dei riformisti sono un elemento importantissimo. Modigliani dirà alla moglie durante gli anni più duri del fascismo quando la moglie gli dice tagliati la barba, sei troppo riconoscibile per i fascisti e lui risponde ricordati che meglio un socialista morto con la barba che un socialista vivo senza la barba. Ma c'è il fotografo ufficiale Gian Bruni del congresso con il mantello nero davanti alla macchina, il flash che fotografa i socialisti riformisti il giorno dell'intervento di Turati, lo hanno aspettato tutti, lo accompagnano fuori, c'è tutta la forza riunita per vederlo, per vederlo vicino. Sono anni in cui ovviamente non c'è la televisione, la gente si tramandava le leggende, le frasi che i leader dicevano, leggeva gli articoli su critica sociale, sull'Avanti, sull'Ordine Nuovo ma non conosceva di persona questi miti che camminavano per le strade di Livorno. La gente faceva la posta davanti agli alberghi dove erano, i giornali pubblicavano come si fa oggi con le star, pubblicavano dove erano i riformisti nell'albergo, dove erano i comunisti, dove erano i serratiani e c'è la sfilata di queste barbe, i baffi, la barba bianca del vecchio Costantino Lazzari, la barba nera di Bombacci Luciferina, il barbone di D'Aragona e naturalmente Turati. Turati ne avrà fatti parecchi di testamenti. Comunque è un intervento in cui capisce che la scissione è inevitabile e parla come la scissione fosse una cosa fatta ma dice ma un giorno ritorneremo insieme, ritorneremo insieme perché siete onesti al fondo e quindi portato a compimento questo errore che state facendo, creato il comunismo, inseguita la rivoluzione, quella rivoluzione dicevamo che non si fa e le riforme che non si tentano, inseguita la rivoluzione a un certo punto capirete che avete sbagliato, tornerete indietro e che cosa vi resterà? Il marcio riformisto, il riformismo come lo chiamate voi, che per me è l'essenza del vero socialismo e quindi ci ritroveremo su questa strada. Io probabilmente non vedrò quel momento ma questo momento ci sarà inevitabilmente. E intanto che cosa volete che conti rispetto a questo essere cacciati dal partito, essere tenuti, non ha nessuna importanza essere dentro essere fuori, per me quello che conta è la forza operante per la quale io vissi e per la quale onestamente morirò con voi o senza di voi e questa forza è il socialismo. Ci sono gli applausi di gran parte del congresso, dei serratiani che sono la maggioranza, dei riformisti che sono schierati in quei palchi di destra e ci sono i fischi dei comunisti. A questo punto riparla Kobacev. La gente si chiede se terrà conto delle obiezioni, delle critiche, dei fischi che sono stati fatti al congresso. Se Mosca attraverso Kobacev, che è il suo ventriloco, cambierà la posizione, prenderà atto della realpolitik che così non riesce a conquistare il congresso del partito. Invece Kobacev continua con la sua strada e dice prima che voi votiate tenete conto che un unico risultato verrà considerato da Mosca, quello che porta alla nascita del partito comunista e quindi la vittoria della mozione comunista. Se vincono le altre mozioni noi non le prenderemo in considerazione e non accetteremo il partito che ne risulta dentro l'internazionale comunista. C'è un Colombo che vola chissà come entrato quando si è aperta la porta dentro il teatro Goldoni e la gente che aveva urlato abbiamo il Papa, la bolla pontificia, urla è arrivato anche lo Spirito Santo. Si vota. Ci sono mi mi pare 114.000, 172.000 voti, 172.487, 98.000 sono per la componente di Serrati, maggioritaria, i comunisti unitari, 58.000 sono per i comunisti, 14.000 sono per i riformisti. Va subito la tribuna Bordiga. Dice che quel partito che risulta da questa votazione è fuori dalla legalità, dalla compatibilità del Comintern, della terza internazionale e dà appuntamento ai delegati alle 11 del mattino, un'ora dopo, a un teatro vicino al teatro Goldoni. Bisogna attraversare il centro della città, passare davanti alla statua di Cavour, passare davanti alla scuola dove è insegnato il Pascoli e si arriva al teatro Goldoni. Si spalancano le porte, i delegati socialisti, i comunisti escono cantando l'internazionale. I delegati socialisti che rimangono dentro il teatro Goldoni rispondono con l'inno dei lavoratori, che è stato scritto da Turati, la prima volta che compare la parola in un inno compagni insieme alla parola fratelli. E quindi i due inni si contrappongono l'uno all'altro, segnano il momento drammatico dell'ascissione, piove. I comunisti viaggiano scortati dai carabinieri, ci sono più di 1200 tra guardiereggi e carabinieri che stanno scortando la rivoluzione italiana, la rivoluzione possibile, la stanno accompagnando al teatro che oggi è diroccato, però c'è ancora una bandiera rossa a memoria appesa al cancello del teatro, naturalmente completamente in disuso dopo i bombardamenti. In quel teatro il rituale breve, primo atto, si chiama Kobacev alla presidenza. Quindi Mosca, attraverso il delegato bulgaro del Comitent, guida il congresso costitutivo, in un solo atto, in poche ore, congresso costitutivo del Partito Comunista. Si vota per acclamazione, nasce il Partito Comunista italiano, sezione della terza internazionale, dell'internazionale comunista. Sono pronte da qualche mese le tessere dei due partiti, le hanno disegnate, hanno provato l'immagine i dirigenti del partito senza sapere cosa sarebbe successo, senza sapere chi avrebbe vinto, chi avrebbe perso. I comunisti hanno fatto una tessera, riprendendo l'idea di Lenin, c'è un operaio con una mazza che spezza le catene che legano il mondo, il pianeta. I socialisti hanno fatto la tessera del 1921 con una ragazza, con un fazzoletto da lavoro in testa, che sta cucendo la bandiera del partito, la bandiera rossa. Si vede la falce e il martello, si vede il sole nascente. Io ho scritto nelle ultime righe di questo lavoro che ho fatto, che forse era la ricucitura di uno strappo che dura da un secolo e che è possibile che non sia condannato a durare in eterno. Grazie. Grazie. Se vuole fare il firmacopie con il pubblico. Volentieri. Grazie. Dove lo facciamo, Nicoletta? In fondo. Ringraziamo Ezio Mauro per questa lezione magistrale che ha fatto oggi perché merita un applauso per uno sforzo veramente ingommiabile. Noi siamo alla terra di Ciro Menotti. Io dico sempre che il primo desiderio sia di unire. Forse la storia è diversa, però magari potremmo provarci a unire. Sarebbe il momento. Con questo auspicio chiudiamo e ringraziamo veramente con un altro applauso Ezio Mauro, veramente grande studioso. Grazie. Grazie e buon festival. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.